Nuovo appuntamento con la meteorologia e con le previsioni curate dal meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di partire dalla situazione meteo di del weekend, vogliamo informare i nostri telespettatori tracciando la situazione attuale del tempo. Sulla nostra regione va rinforzandosi un campo di alta pressione di natura oceanica che garantirà condizioni di tempo stabile per diversi giorni. Il flusso perturbato delle correnti atlantiche scorrerà oltre Alpe. Tuttavia, infiltrazioni di aria umida da nord-ovest determineranno passaggi nuvolosi innocui. Altro elemento da tenere presente è la formazione di dense foschie e banchi di nebbia durante la notte e al primo mattino, segnatamente nelle vallate e pianure interne, un fenomeno tipico dell'inverno quando dominano le alte pressioni e che determina un'accentuata escursione termica giornaliera. Cosa ci aspetta invece più nel dettaglio per le giornate di domani, sabato 22 e domenica 23 dicembre? Sia per domani, sabato 22, che per domenica 23 dicembre avremo condizioni di cielo tra poco nuvoloso e irregolarmente nuvoloso, con nubi basse presenti al primo mattino lungo la costa, mentre dense foschie e locali banchi di nebbia interesseranno le vallate interne di tutta la regione. Temperature in aumento nei valori massimi, venti deboli occidentali e mare poco mosso. E sulla tendenza della prossima settimana invece cosa ci puoi dire? Sì, situazione che non subirà alcun cambiamento nella giornata della vigila di Natale, a parte un'ulteriore intensificazione delle nebbie notturne e mattutine. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente relativamente ai valori massimi fino a portarsi di 5-6 gradi al di sopra della media del periodo. Tra Natale e Santo Stefano invece è prevista una modifica barica sull'Atlantico grazie all'espansione verso nord dell'alta pressione, la quale raggiungerà le isole britanniche. Questo comporterà la discesa di aria relativamente fredda verso i Balcani e da qui raggiungerà la nostra penisola determinando un sensibile calo delle temperature unitamente al rinforzo del vento dei quadranti nord orientali. Aria moderatamente fredda che continuerà ad affluire probabilmente almeno fino a giovedì 27 in un contesto però prevalentemente secco. Ho parlato di aria moderatamente fredda per cui non aspettiamoci nessuna ondata di freddo rilevante, almeno per il periodo preso in esame. Ma per maggiori dettagli, come sempre, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it